Abbiamo parlato del moto dell'acqua nei mezzi porosi. Quello che ci rimane adesso da vedere è cosa succede quando l'acqua non entra nel mezzo poroso, ma per esempio rimane in superficie. Questi meccanismi che si chiamano meccanismi di ruscellamento, e queste slide sono mezze in inglese e mezze in italiano, sfortunatamente o fortunatamente, quello che succede è che si avvia un tipo di moto sulla superficie che è importante dal punto di vista idrologico perché è più veloce di quello che si ottiene all'interno dei suoli. Quando siamo all'interno dei suoli potremmo parlare, che ne so, di movimento di acqua di centimetri al secondo, al di sopra dei suoli decimetri al secondo e naturalmente nei canali abbiamo metri al secondo. Quindi dal punto di vista dei risultati poi che noi otteniamo, cambia molto se l'acqua si muove dentro o fuori del mezzo poroso. Il primo modo, la prima descrizione, io ho cambiato slide, avvertitemi se non avete visto il cambiamento di slide. Il primo modo che abbiamo è quello che viene chiamato di flusso ortoniano, non superficiale. Questo dopo Robert Horton, che appunto è uno dei padri dell'idrologia del secolo scorso, soprattutto della prima metà del secolo scorso. E che cosa succede? Succede, noi abbiamo qui, ho disegnato un profilo di un suolo, in questo suolo abbiamo una falda che si chiama groundwater level che vedete segnato in basso con il quadratino e si forma uno strato d'acqua superficiale e questo strato d'acqua superficiale è di dimensione H, è presente nella parte superiore. Questo perché l'infiltrazione, cioè la capacità di infiltrazione del sistema, è inferiore all'intensità della precipitazione. Quindi il meccanismo ortoniano si manifesta o quando abbiamo una precipitazione molto intensa o quando abbiamo dei suoli particolarmente poco conduttivi, come potrebbe essere un argilla o come potrebbe essere un suolo urbano dove per esempio su una piazza, su un parcheggio in cui ho una superficie praticamente impermeabile che agisce. Andando a vederla un po' con i numeri, come si esprime questo fatto? Si esprime con il fatto che J di T, che è la grandezza che vedete sulla sinistra dell'equazione, è maggiore di che cosa? Del flusso che si genera sulla superficie. Questo è il termine di flusso di Darcy Buckingham esplicitato, dove K di θw è la conducibilità idraulica a saturazione e dpsi su dz è la variazione di suzione con la profondità. Questa è ovviamente la rappresentazione uno dimensionale del moto. Questa dovrebbe essere tridimensionale per essere completa, ma può bastare come semplificazione. Il termine con K di θ di ω è il termine gravitativo che dipende dall'attrazione di gravità, che qui ha un coefficiente di moltiplicazione che è 1 perché deriva da dz su dz. Nel grafico che vedete sottostante, che cosa vedete rappresentato? Vedete rappresentato in ordinate la conducibilità idraulica in metri al secondo. In ascisse vedete rappresentate la precipitazione a destra in millimetri all'ora e a sinistra in metri al secondo. Perché di solito le precipitazioni si misurano poi e si indicano con millimetri all'ora. E invece la conducibilità idraulica si rappresenta in metri al secondo. Per cui a volte non si ha chiara l'idea di come si confrontano le due cose. Ora trascurate il secondo termine dell'equazione che vedete sopra, quello che suona K di θ w dps su dz. Di questo per il momento non teniamo conto. Che cosa succede se tracciamo la linea rossa? La linea rossa è la bisettrice del piano in cui l'intensità di precipitazione è uguale a la conducibilità idraulica. Il fatto che ci sia il secondo termine... cosa succede? Tutto quello che sta sopra la linea rossa sono precipitazioni la cui intensità è tale da generare deflusso ortoniano per superamento della capacità di infiltrazione. Come vedete ho riportato... in realtà ho segnato un triangolo di color verde qui sopra perché l'ho spostato un po' in alto per tenere conto dell'effetto del secondo termine dell'equazione sovrastante che è quello dovuto all'assuzione. dipenderà dallo stato iniziale anche rispetto ad omega, del omega w, del suolo, quello che succede. Quindi ho spostato tutto in alto. Ho riportato anche sempre sulle ascisse però in alto i tipi di tessitura di suolo che corrispondono più o meno alle varie conducibilità idraulica. Quindi argille, limi, sabbie e ghiaie. Quello che si vede è che tipicamente quasi sempre le argille tendono a generare deflusso ortoniano, di meno i limi e molto di meno le sabbie. Mai praticamente le sabbie. Ci sono anche delle linee verticali che ho riportato che sono quelle che hanno a che fare con quella tabella di precipitazioni estreme che vi avevo riportato in una delle lezioni iniziali. Sono i livelli, per esempio, di massima precipitazione non è mai registrata con un tempo superiore a 24 ore, un tempo superiore a un'ora. La parte superiore, quella che vedete segnata con reticolo a quadratini, sono superiori alle precipitazioni che ci siano mai registrate sulla Terra. Quindi tutte le precipitazioni possibili che ci possiamo immaginare sulla Terra sono quelle concentrate al di sotto della linea massima precipitazione mai registrata. Qui generalmente stanno al di sotto anche della massima mai registrata con un tempo di 24 ore. Però se una precipitazione è molto intensa, però breve, ci può generare localmente, istantaneamente, dal deflusso superficiale. E questo grafico, dunque, può già di suo in qualche modo discriminare fra il deflusso duniano e il deflusso ortoniano in modo semplice. Naturalmente non è una rappresentazione esatta, è una rappresentazione approssimata. Quali sono le condizioni che supportano la saturazione da sopra? Cioè si chiama anche saturazione da sopra perché in questo modo, e l'avevamo visto in questo, c'è una falda che è sotto, però c'è anche una falda che si forma in superficie e che poi si va man mano propagando verso il basso. Beh, c'è un processo di saturazione dall'alto e quindi un processo di formazione ortoniano. Se ci sono alte intensità di precipitazioni, se c'è, per esempio, hydraulic head, vuol dire se c'è un carico idraulico sopra per qualche motivo, il carico idraulico può essere imposto artificialmente, ma potrebbe anche essere generato da un deflusso, per esempio, di un flusso di acqua superficiale che si è generato altrove e che passa. Dove non c'è vegetazione? Perché la vegetazione costituisce un riparo, rallenta, come dire, la precipitazione di per sé può essere molto variabile di istante in istante. La vegetazione è una specie di recipiente che attenua le precipitazioni e anche in qualche modo le orienta in maniera opportuna, perché soprattutto nel caso delle piante, le piante cercano di portare l'acqua verso le proprie radici. Dipende ovviamente dalla soil texture, perché le argille, come abbiamo visto, sono più prone a formare precipitazione di tipo, l'uscellamento di tipo ortoniano. Se si formano delle crusting, per esempio in condizioni di, di solito in situazioni di aridità, la parte superficiale del suolo forma delle piccole croste che sono poco permeabili, anche se il suolo, dal punto di vista della tessitura, potrebbe essere considerato più permeabile. Un'altra situazione di questo tipo è l'hydrofobic soil. Molte piante, per esempio, rilasciano sostanze organiche sulla superficie che creano un sottile film sulla superficie del suolo che lo rende idrofobico. In questo caso, almeno negli istanti iniziali della precipitazione, l'infiltrazione proprio non avviene. questa costituisce una pellicola che dopo con l'aumentare della precipitazione, anche per l'apporto meccanico delle stesse gocce di precipitazione che battono sul suolo, queste pelliccole vengono rotte e quindi comincia in una seconda fase l'infiltrazione. Un altro elemento che favorisce il deflusso di tipo ortoniano è la bassa temperatura. la viscosità dell'acqua da 25 gradi a 5 gradi cambia di due volte, cioè l'acqua è due volte meno viscosa a 5 gradi che a 20 gradi. La conseguenza, detta in modo banale, è che l'acqua in estate scorre più velocemente che in inverno. Voi dovreste andare a rivedervi come fate la condiciabilità idraulica in funzione della viscosità per appunto capire che appunto la viscosità ha un effetto sulla conducibilità idraulica e quindi sulla capacità di infiltrazione. Facciamo un esempio. Qui abbiamo un breve, una pioggia di brevissima intensità che è riportata in millimetri al secondo, qui in totale di 8 millimetri. il volume di pioggia sopra all'intensità sotto. Abbiamo un suolo uno dimensionale dove abbiamo scelto una condizione iniziale idrostatica. Come vedete cresce linearmente con la profondità quindi il carico, l'energia è meno rho GH per così dire questa 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 linea che vedete. In alto a sinistra siamo sulla superficie e abbiamo meno due metri di suzione a due e a un metro di suzione come vedete abbiamo meno un metro il fatto che sulla superficie abbiamo meno due metri di suzione e la curva sia idrostatica ci fa pensare che la falda cioè il punto in cui si raggiunge psi uguale a zero sia a meno due metri la falda è a due metri di profondità. Poi ci facciamo piovere quella pioggia che voi abbiamo dimenticato di dire quale fosse il tipo di suolo ma non è così importante in qualche modo deve essere un suolo poco conduttivo quello che vedete qui c'è un'intensità di precipitazione che cosa è? È superiore alla conducibilità idraulica del suolo la linea nera è la prima che si viene a formare come vedete sulla linea nera la suzione sul punto nero in alto a destra la suzione è zero anche negli istanti successivi quindi negli istanti successivi si forma una falda che scende passando via via dalla linea blu verde scuro verde chiaro giallo e rosso mentre sulla superficie la water suction è zero o la water pressure la pressione sarebbe meglio in questo caso perché di solito la suzione è il modulo della pressione quindi viene misurata positivamente e quindi in prossimità del suolo in superficie nei primi centimetri in questo caso si va formando un suolo d'acqua come vedete le precipitazioni qui durano qui abbiamo rappresentate 45 minuti e per 45 minuti noi abbiamo questa piccola falda sottile sulle superfici questo è il contenuto d'acqua che varia nel tempo comunque qui è evidente che a 45 minuti abbiamo non proprio la saturazione perché non siamo ancora a livello di saturazione ma quasi questi sono i due grafici accoppiati e questo insomma rappresenta un po' la dinamica di un tipo di moto di deflusso di tipo ortoniano e in presenza di una situazione di questo tipo parte della precipitazione non riesce ad infiltrarsi se la precipitazione continua e si forma uno strato superficiale che poi va a formare il deflusso superficiale di tipo ortoniano per esempio qui è la rappresentazione dei millimetri al secondo che sono pochissimi se osservate anzi sono metri al secondo per questo sono anche pochi tirate via tre zeri e ottenrete millimetri al secondo e questo è il deflusso superficiale che si viene a generare che è di piccola entità se volete ma è presente in occasione di questo fenomeno che sta avvenendo quello che succede è che si forma un ponding cioè si forma una pozzanghera sulla superficie questa pozzanghera viene a un'altezza di due centimetri come vedete nel punto più di maggiore intensità all'inizio poi man mano decresce fino a zero poi tutto si riassorbe dopo un giorno praticamente questo è un altro esempio che rappresenta di nuovo un fenomeno di questo tipo in questo caso la precipitazione è quella che vedete segnata in blu e le cui misure sono sulle ordinate a sinistra mentre sulla destra sono rappresentate le velocità di Darcy con i quali avviene l'infiltrazione cioè con i quali l'acqua va dentro nel terreno e questo corrisponde alla linea tratteggiata nera da un punto di vista così semplicemente rappresentativo ci verrebbe da dire che appunto la curva di infiltrazione cioè quella nera decresce in modo esponenziale fino a zero in effetti in alcuni modelli semplificati di infiltrazione questo tipo di modello esponenziale è stato usato in particolare c'è un modello di Orton che usa delle termini esponenziali per descrivere l'infiltrazione questa è sempre un'ulteriore vista di un deflusso ortoniano in cui vedete la precipitazione che si forma che è in millimetri in blu e mentre quella che vedete segnata in nero in alto è in questo caso il ponding si forma un ponding come vedete un po' più di 2 mm in realtà non come avevo detto prima di 25 mm che decresce in modo relativamente lento dal punto di vista tridimensionale potete cioè non tridimensionale si può rappresentare quello che succede sopra anche con il grafico di sotto che rappresenta in ordinate la profondità in metri e in ascissa il tempo che passa quindi ogni linea verticale che voi tracciate è una rappresentazione in un istante diverso di quello del vostro profilo di suolo vedete praticamente che il suolo in questo caso al di sotto rimane praticamente nella condizione iniziale che era una condizione idrostatica e come vedete era la condizione idrostatica con almeno un metro che avevo rappresentato prima mentre sulla superficie vedete che c'è un che si forma il ponding e questo ponding si forma e poi la linea si allarga ma non si allarga tanto perché il ponding aumenta perché questo lo vediamo vediamo in realtà sopra che il ponding sopra rimane sempre più o meno 25 mm in questo intervallo di tempo è perché l'acqua comincia ad infiltrarsi e quindi per qualche centimetro si infiltra al di sotto della superficie formando una piccola falda superficiale direi che la parte del flusso ortoniano l'abbiamo esaurita abbastanza in modo completo e andiamo invece a vedere cosa succede in una rappresentazione veramente bidimensionale per l'infiltration excess questo è un disegno è un disegno pittorico quello che succede appunto è che l'acqua una volta che si è generata sulla superficie cioè una colonna come questa che ho rappresentato e descritto nelle slide precedenti il deflusso si muove lateralmente e va per esempio all'interno del canale che appare in centro vedete anche che c'è una falda una water table sotto questa water table non viene raggiunta come del resto era evidente dalla figura in basso qui durante il fenomeno e poi sarà compito diciamo dell'alveo del fiume di fornire acqua la falda che viene ricaricata come vedete più lentamente ma la falda superficiale e la falda sotterranea rimangono staccate l'altro meccanismo che vi ho menzionato è il meccanismo duniano di overland flow o meccanismo di saturazione di creazione del ruscellamento su suoli già saturi e cosa succede? l'idea fondamentale qui è che il suolo i suoli naturali soprattutto siano molto più conduttivi di dei cioè abbiano una conducibilità idraulica capace di assorbire tutta la precipitazione che cade in un determinato intervallo allora quello che succede a sinistra è che partiamo da un suolo che è insaturo pian piano si viene a formare una water table perché cosa? perché naturalmente ci sono delle precipitazioni nei quali tutta l'acqua si infiltra e anche in questa colonna per creare una water table di queste dimensioni si deve essere anche verificato un moto laterale che ha accumulato acqua per esempio in un punto più depresso di altri se i volumi di precipitazioni durante una fase per esempio di una stagione piovosa continuano la falda si alza si alza fino a quando si alza si alza fino a raggiungere il piano campagna a questo punto ogni ulteriore precipitazione che cade sopra la parte satura ruscella è chiaro è chiaro anche che nel meccanismo che abbiamo rappresentato qui ci potrebbe creare del ruscellamento anche in condizioni senza precipitazioni semplicemente perché si accumula dell'acqua che man mano fluisce nel sottosuolo nel suolo e poi ad un certo momento va a riempire le zone più depresse o più concave del bacino questo secondo caso però non andrei a parlare tanto di saturazione da sotto e di fenomeno dunniano è qualcosa di è una saturazione che è prodotta dal flusso subsuperficiale e comunque quando è saturo il se piove ancora si forma una lamina d'acqua superficiale che poi fluisce all'interno del del cioè fluisce sulla superficie e poi va nei canali come in precedenza quando avviene la 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 saturazione qui è rimasta saturation from above ma in realtà è saturation from below nel titolo e è ovvio che in questo caso siamo nel caso opposto di prima la precipitazione qui inferiore della della capacità di infiltrazione siamo quindi nella parte in basso del del flusso e in queste condizioni che in questo grande settore verde che vediamo questo in realtà è la parte preponderante delle precipitazioni nei suoli naturali quando si ha precipitazione generazione del flusso su uoli saturi beh quando abbiamo intanto precipitazioni relativamente modeste perché se fossero intense avremmo produzione del flusso superficiale ortoniano però abbiamo grandi volumi di precipitazione che prima si infiltrano e poi si muovono lateralmente fino a formare fino a riempire tutti i volumi disponibili del suolo magari in presenza in profondità di un superficie di separazione in cui per esempio ho un'argilla o della roccia non fratturata poco satura per cui a partire da quella poco conducibile scusate per cui a partire da quella si forma poi man mano una falda ovviamente abbiamo abbiamo presenza di vegetazione non come nel caso precedente in cui non avevamo poca vegetazione in cui abbiamo suoli conduttivi tipo sabio o suoli con materiale organico o torbe per esempio e quindi e abbiamo in genere temperature più elevate anche qui facciamo un esempio di una precipitazione che in questo caso prima avevamo 8 mm di infiltrazione con un'intensità relativamente elevata qui abbiamo un'intensità solo 1.6 mm di precipitazione con intensità molto modesta su un impulso quadrato di precipitazione dove su una colonna verticale come nel caso precedente la condizione iniziale è sempre la solita cioè la precipitazione è idrostatica e questo invece è il risultato come vedete qui si parte da una condizione in cui la condizione iniziale è la linea nera anzi che è ora 1 perché la condizione iniziale vera e propria sarebbe una linea orizzontale come vedete al passare dal nero al viola al blu e così via si ha un aumento del contenuto d'acqua in superficie un aumento che è tra l'altro relativamente idrostatico mentre è probabile che qui ci sia una superficie di separazione perché come vedete le linee si forma un fronte ad una certa profondità che poi si propaga in modo relativamente lento quindi abbiamo uno strato di separazione si tende a formare più o meno a mezzo a 40 cm di profondità una fase relativamente anzi si forma perché vedete la water suction è zero intercettate sulla verticale la water suction è zero a partire dal biocchiaro quindi dalle ore 4 in profondità a circa 38 40 cm si sta formando una falda poi al di sopra di questo livello si sta formando una vedete che c'è il livello idrostatico c'è tutta una falda che sale sempre di più quando noi siamo a 5 ore la falda ha già raggiunto la superficie a partire da questo istante cioè dall'istante verde scuro all'istante rosso abbiamo una falda in superficie e quindi deformazione di difflusso questo è il contenuto d'acqua questo ancora di più mi fa vedere che ci sono due suoli con superficie di separazione diverse con probabilmente una sabbia in superficie con una porosità di 0 30 attorno a 0 38 0 0 38 dovrebbe essere e un'argilla più in profondità con una porosità di 0 50 e nell'argilla praticamente si forma c'è una falda tutto è saturo ma anche nella sabbia tutto è saturo almeno all'istante rosso e mentre nelle fasi precedenti nero violetto blu e azzurro ho delle fasi in cui il contenuto d'acqua non è pari a quello di saturazione ma poi pian piano vedete all'istante azzurrino qui si forma una falda una falda più o meno dentro lo strato di argilla e poi questa falda migra superiormente nella parte di anche nella parte di sabbia e tutto risulta saturo questa è la rappresentazione di due grafici insieme che vanno letti naturalmente in contemporanea ma da ciascuno di questi si possono trarre informazioni anche voi nei vostri esperimenti che farete in seguito dovrete non solo fare gli esperimenti e disegnare queste curve ma anche interpretarle in maniera corretta qual è il runoff che si viene a generale allora per esempio questa è una rappresentazione la pioggia comincia dopo un po' dopo un po' di tempo in questi casi sono esempi molto semplici molto piccoli si comincia a generare il runoff il runoff come vedete non è così continuo poi il runoff praticamente finisce di essere generato quando la pioggia finisce in questo caso perché poi evidentemente tutto nella colonna verticale tutto comincia ad infiltrarsi di nuovo questo si può rappresentare anche in questo modo ho una pioggia quadrata che dura un impulso quadro di precipitazione blu disegnato in blu mentre ho il ponding che viene misurato in questo caso dalla curva nera e che arriva fino a 10 cm in questa simulazione la curva la rappresentazione che vedete sotto è una rappresentazione appunto in ordinate o la profondità in asciso del tempo quindi come nel caso precedente ogni linea verticale corrisponde ad una foto del ad una foto del sistema in un preciso istante di tempo che cosa vedete qui vedete nell'istante iniziale alle 6 c'è una distribuzione di tipo cioè noi vediamo che il colore varia con continuità questo significa che varia più o meno linearmente e quindi è possibile è probabile anzi in realtà è certo perché lo so che la condizione iniziale era una condizione idrostatica dopodiché questa condizione idrostatica viene lentamente a variare si vede le variazioni della sfumatura e ad un certo istante si comincia a formare una falda nella parte di separazione poi questa falda ha un doppio moto la falda è nel beh il carico idraulico ha un andamento tale per cui è massimo in prossimità della superficie di separazione fra sabbia e argille dove vedete la traccia più scura poi la falda in realtà si propaga verso il basso anche all'interno delle argille sia pure molto lentamente ma soprattutto si propaga molto più velocemente all'interno dello stato di sabbia che è superiore l'andamento dell'infiltrazione in questo caso è questo cioè vedete l'impulso di precipitazione qui è blu l'infiltrazione cos'è? Pari alla precipitazione nei primi istanti di tempo poi improvvisamente quando il suolo è saturo cioè alle ore nove probabilmente più o meno l'infiltrazione viene immediatamente diminuita di moltissimo e si ha in corrispondenza della poca infiltrazione residua che rimane che vedete oscillare peraltro si ha la produzione di deflusso superficiale sempre in una rappresentazione pittorica quello che succede è che tutto si infiltra si forma una falda che vedete disegnata qui in questa figura con i toni del blu in questa falda avviene il movimento laterale in 2D ad un certo momento c'è una parte di terreno che è in prossimità del del fiume cioè e lì si genera se piove ancora il fenomeno del del deflusso duniano per eccesso di saturazione questi sono varie varie rappresentazioni di fenomeni di questo tipo in cui sono riportate anche le misure in cui dei versanti che sono coinvolti e quindi il deflusso duniano ha anche una rappresentazione spaziale più complessa del deflusso ortoniano nel deflusso ortoniano ciò che conta è la capacità di infiltrazione locale cioè il tipo dei suoli e la loro copertura rispetto all'intensità di precipitazione nel deflusso di tipo duniano invece è tutto un bacino che concorre alla formazione della falda come si vede in questi elementi cioè l'acqua si infiltra anche nelle parti più alte del bacino poi forma una falda sotterranea la quale migrando lateralmente contribuisce al riempimento della sezione qui negli esempi precedenti questo fatto del deflusso laterale non c'era c'era semplicemente il riempimento da sopra dovuto comunque all'intensità e al volume di precipitazione però qui il concetto si fa un po' più complesso e tridimensionale l'altra caratteristica del deflusso duniano è che esso avviene stagionalmente per esempio in un bacino come questo rappresentato che è tratto da un lavoro di Tom Dunn e Luna Leopold del 78 quello che si vede è proprio l'andamento della parte satura di un bacino nel corso di una stagione questi moti laterali di cui io vi ho parlato poc'anzi avvengono non per effetto di una singola precipitazione ma per effetto di un gruppo di precipitazioni durante una stagione piovosa per cui man mano l'acqua si accumula all'interno del suolo ed espande le parti sature nel disegno che vedete rappresentato in alto in realtà noi partiamo da marzo qui abbiamo il massimo della espansione dell'area satura quindi abbiamo avuto prima una stagione di precipitazione il cui effetto è stato quello di riempire il terreno di acqua e di saturare una parte del bacino poi evidentemente da marzo piove sempre di meno e da marzo 21 piove sempre di meno e la parte di zona satura si restringe e solo questa parte di zona satura che produce del flusso duniano vi ricordo e si restringe ancora fino al 21 aprile per avere un minimo nel caso di aprile nel caso di aprile di agosto 25 in cui ho probabilmente il minimo dell'estensione della parte satura quindi c'è una differenza sostanziale dal punto di vista del flusso duniano da quello ortoniano non solo perché il flusso ortoniano satura dall'altro il flusso duniano satura da sotto ma anche per l'estensione temporale di questi fenomeni il flusso ortoniano è legato alla dinamica delle precipitazioni intense dobbiamo prevedere bene le precipitazioni intense se vogliamo prevedere bene il flusso ortoniano naturalmente in relazione alla capacità dei suoli invece per quanto riguarda la previsione del flusso superficiale dovuto a saturazione duniana noi dobbiamo monitorare i volumi di precipitazione su tempi molto più lunghi un'altra informazione qui vengo anche ad una domanda che aveva fatto un vostro collega in precedenza è legata al fatto che di come sono fatti in realtà in maniera tridimensionale i bacini questo è un bacino sperimentale il Pannola Experimental Basins che si trova negli Stati Uniti e vedete qui rappresentate due cose una quella sopra è la superficie del terreno quella sotto è la superficie del bedrock in cui potenzialmente il bedrock è un bedrock che supponiamo non fratturato in questo caso rispetto al quale si formano quelle superfici di discontinuità che sono poi l'origine di una formazione di una falda che eventualmente migra verso l'alto in questo bacino di Pannola non si è mai visto del flusso ortoniano scusate e vedete per esempio il grafico in basso rappresenta la quota del fondo del bedrock rispetto alla quota della superficie dove vedete si forma un metro più o meno di suolo tra il bedrock e la parte superficiale e su questa e comunque il bedrock è molto irregolare in alcuni casi addirittura all'inizio sulla sinistra non c'è non c'è quasi suolo cosa succede quando cosa succede intanto che su queste superfici beh quando andiamo ad analizzare il moto dell'acqua su questo tipo di superfici in tre dimensioni il moto dell'acqua che ci verrebbe da disegnare sulla superficie è un moto parallelo che vedete disegnato da linee bianche perché il versante è praticamente piano un piano in realtà nel nel siccome il bedrock è la seconda figura in centro è molto più irregolare le direzioni in cui va l'acqua quelle secondo la massima pendenza sono molto irregolari si congiungono si separano fanno delle cose strane e lo spessore del suolo ovviamente è variabile nello spazio questo beh è uno suolo molto conduttivo come 10 10 alla meno 4 10 metri al secondo mentre il bedrock è mille volte meno conduttivo a saturazione che cosa succede se noi facciamo piovere per tipo 6 ore per 9 10 ore per 6 per 6 millimetri quello che succede vedete è rappresentato nella figura in alto a destra da prima avviene un fenomeno di infiltrazione prevalentemente verticale questo perché il l'acqua si muove intanto in modo simmetrico la conducibilità idraulica in questo caso è legata soprattutto al è legata soprattutto al contenuto d'acqua di suolo iniziale il suolo è secco si infiltra poco e lentamente nel momento ad ore 6 si si forma si cominciano a formare delle piccole faldine alla separazione tra il bedrock e il suolo che sono quelle che vedete rappresentate in blu ad ore 7 queste falde si espandono una cosa importante da notare è che a ore 7 a 6 ore 7 queste falde che sono anche sinonimo di conducibilità di alta conducibilità idraulica nei suoli cioè siamo lì c'è la conducibilità idraulica a saturazione che è centinaia forse anche migliaia di volte più elevata della conducibilità idraulica nel caso insaturo e quindi l'acqua si muove bene velocemente dove c'è sono le parti blu ma queste parti blu fino a ore 7 non sono connesse all'uscita del bacino che si trova in basso a ore 9 finalmente o subito dopo le ore 9 si congiungono e allora comincia veramente un moto di flusso sub-superficiale su tutto che ha a che fare con una parte considerevole del versante che esce nella direzione del basso e così poi ancora nelle ore 14 poi si ha un tempo un tempo successivo il risultato che per di portata che si viene a generare in questo caso da del sub-surface flow nessuno dei due precedenti è un è quello che vedete rappresentato nella figura nel grafico cioè fino a 6 ore la portata sale più sale più più meno lentamente però sale cioè sale più o meno velocemente e ha un massimo a 9 ore quando tutto il nostro bacino è è completo a questo punto si ha un rilascio di acqua perché il nostro la nostra area è ben connesse poi evidentemente c'è un nuovo un nuovo riempimento del bacino sotterraneo e come dire una nuova traccimazione del bacino sotterraneo che qui rappresentata nella figura in basso a destra come vedete si è formato un accumulo di acqua sotterranea e dopodiché quest'acqua sotterranea si accumula si accumula e poi traccima e questo è il fenomeno che viene chiamato di fill spill ora nella rappresentazione di questo di quanto avviene nel bacino di panola abbiamo introdotto dei concetti diversi in effetti qui non c'è c'è una portata che viene generata alla sezione di chiusura cioè possiamo pensare che sia il torrente ma questa portata non è generata da deflusso superficiale e è determinata completamente dal deflusso superficiale inoltre questo deflusso superficiale ha una dinamica regolare non transitoria cioè non transitoria che è dovuta non stazionaria che è dovuta alla complessità del del bacino in particolare alla complessità della sua della struttura del suo bedrock un effetto di questo tipo si può vedere anche una simulazione semplificata come questa in cui abbiamo una breve precipitazione che cade nella parte a sinistra in alto del dominio che vedete rappresentato in basso in questo caso invece di bedrock abbiamo un'argilla il dominio è bidimensionale sopra abbiamo della sabbia quello che succede è che viene fatto piovere nella parte in alto a sinistra che vedete che si scurisce poi si procede si va verso destra poi si ritorna in basso vedete 0, 1, 2, 3, 4 ore che cosa succede? man mano dopo la pioggia iniziale tutto si infiltra nella parte in alto a sinistra infiltrandosi la precipitazione anche come dire si diluisce teta teta si allontana dal livello di saturazione in effetti qui vedete non c'è mai vera e propria saturazione comunque siccome il pendio della superficie di argilla è inclinato dal sinistra verso destra quello che si vede è che tutto si muove da sinistra verso destra e man mano segue il pendio dopodiché dopo una certa ora anche in prossimità del pendio si forma si arriva quasi alla saturazione e questo flusso di saturazione si propaga per poi diffondersi dopo vari giorni dopo cinque giorni più o meno in modo uniforme su tutto il bacino queste simulazioni in teoria sono questo tipo di simulazione in teoria è la vostra portata ve lo potete fare con con il software che abbiamo sviluppato che si chiama GeoFrame Research 2D Sommando i risultati in generale il deflusso è un deflusso superficiale è dovuto a una serie di fenomeni complessi che hanno una dinamica tridimensionale nei versanti e la posizione del substrato ovvero del bedrock ha un effetto importante il rapporto fra la conducibilità idraulica del suolo e la intensità delle precipitazioni crea un bilanciamento un trade off si dice in inglese tra che cosa quale tipo di deflusso superficiale si può generare quali tipo di deflusso si può generare se ortonian runoff oppure saturation excess infiltration excess runoff e saturation excess runoff cioè un deflusso duniano un deflusso ortoniano ci sono in realtà molte altre condizioni che generano che possono generare un deflusso considerevole in particolare negli anni recenti si è venuta a consapevolezza si sono portate a consapevolezza delle cose che in realtà si sanno negli anni 60 dagli studi di Hewlett e Hebert i quali sostennero che non era necessario il deflusso superficiale per generare poi il deflusso nei canali che è il deflusso superficiale quello nei canali però nel versante non era necessario avere deflusso ortoniano o deflusso duniano ma c'erano tutta una serie di altri fenomeni in particolare di scivolamento laterale dell'acqua dovuto alla presenza di un'interfaccia meno conduttiva che possono generare un consistente deflusso e quello che abbiamo visto nell'ultima parte di questa lezione se avete delle domande sono a vostra disposizione se non avete domande facciamo due minuti di pausa cinque minuti di pausa di pausa di pausa di pausa